Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto! Oggi riprendiamo la serie sui proverbi. Stiamo vedendo insieme i primi nove capitoli di questo libro ispirato dal Signore. Leggiamo insieme quindi Proverbi 7, tutto il capitolo. Proverbi 7. Questa è la parola del Signore. Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti, osserva i miei precetti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza, tu sei mia sorella e chiama l'intelligenza, amica tua, affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole seducenti. Ero alla finestra della mia casa, dietro la mia persiana, e stavo guardando. Vidi tra gli sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno, che passava per la strada, presso l'angolo dove essa abitava, e si dirigeva verso la casa di lei, al crepuscolo, sul declinare del giorno, quando la notte si faceva nera, oscura. Ecco, falli si incontra una donna in abito da prostituta e astuta di cuore, turbolenta e proterva, che non teneva piede in casa. Ora in strada, ora per le piazze, e in agguato presso ogni angolo. Essa lo prese, lo baciò e sfacciatamente gli disse, dovevo fare un sacrificio di riconoscenza, oggi ho sciolto i miei voti. Perciò ti sono venuto incontro, per cercarti ti ho trovato. Ho abbellito il mio letto con morbidi tappeti, con coperte ricamate e con filo d'Egitto. L'ho profumato di mirra, di aloe e di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, «Sollazziamoci in amorosi piaceri, poiché mio marito non è a casa, è andato in viaggio lontano. Ha preso con sé un sacchetto di denaro, non tornerà a casa che al plenugno». Lei lo sedusse con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Egli le andò dietro subito come un bue va al macello, come uno stolto e condotto ai ceppi che lo castigheranno. Come un uccello si affretta al laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia li trapassi il fegato. Or dunque, figlioli, ascoltatemi, state attenti alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna, non ti sviare per i suoi sentieri. Perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, è grande il numero di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno dei morti, la strada che scende in grembo alla morte. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua parola veritiera e grazie per le tue istruzioni, per i tuoi comandamenti, per i tuoi precetti. Aiutaci, Signore, ad avere i cuori aperti, le orecchie aperte, gli occhi aperti davanti alla tua parola per ricevere quello che hai da dirci con umiltà, con sottomissione, per santificarci sempre di più e somigliare sempre di più a Cristo Gesù, nostro Signore Salvatore. Te lo preghiamo nel suo nome. Amen. Amen. È difficile leggere questo capitolo e non avere il cuore appesantito e rattristato. Le parole di Dio ci portano alla mente persone che conosciamo o di cui abbiamo sentito parlare che, come questo giovane di cui parla il padre, hanno commesso adulterio annuendo alle avance della donna adultera. Pensiamo a uomini e donne credenti che hanno rovinato la loro vita e la vita delle persone intorno a loro, facendo cosa? Commettendo adulterio. Hanno deciso di mettersi del fuoco sul petto finendo per bruciare tutti i loro abiti come leggiamo in Proverbi 6. Pensiamo a teologi e pastori di fama internazionale di cui si sono scoperte le malafatte durante la vita e dopo la vita. Essi hanno disonorato Dio, hanno ferito tragicamente le loro famiglie e hanno macchiato la testimonianza del Vangelo e della Chiesa che lo annuncia. Non è una questione che però riguarda solamente i credenti, come se a Dio non importasse nulla di ciò che commettono coloro che non gli appartengono. Al contrario, qui leggiamo l'episodio di un ragazzo privo di senno, un ragazzo che è in compagnia di altri sciocchi, al versetto 7. Abbiamo visto reputatamente in questo libro, il libro dei Proverbi, che c'è una contrapposizione tra lo sciocco e il saggio, tra chi teme il Signore e chi non lo teme, chi è di Dio e chi è non di Dio. L'adulterio è profondamente odiato dal Signore, sia esso commesso da credenti o da non credenti, come il matrimonio, come abbiamo letto in Ebrei 13, è onorato, si è celebrato tra non credenti e credenti. Purtroppo, viviamo in una società che minimizza il matrimonio, minimizza l'aspetto pattizio del matrimonio che addirittura normalizza i tradimenti e l'adulterio. Ovviamente a questo punto potresti pensare, adesso che stai ascoltando, che questo capitolo non ti riguardi. Se non sei sposato o sposata, potresti tranquillamente dichiarare beh, io non ho commesso adulterio, io non sono andato con un altro uomo o un'altra donna. E se invece sei sposato potresti dire la stessa cosa. E grazie a Dio per questo. Grazie a Dio per la sua grazia. Ma se guardiamo il capitolo da un'altra prospettiva, ci rendiamo conto di essere tutti adulteri. In Adamo abbiamo tradito Dio, infrangendo la sua legge, rompendo il patto stabilito tra lui e noi. Abbiamo commesso adulterio andando dietro all'idolo seducente dell'egocentrismo, dell'autonomia, dell'indipendenza, della falsa libertà. Nell'Antico Testamento leggiamo del dolore e dell'ira di Dio nei confronti di un popolo idolatrico e adultero. Grazie alla misericordia e grazia del Padre, quel matrimonio creazionale che è stato corrotto dal nostro peccato è stato redento dallo sposo, da Gesù Cristo, lo sposo perfetto, il Figlio di Dio, che ha dato se stesso per la sposa, cioè la Chiesa. coloro che tra di noi hanno avuto fede nella persona e nel sacrificio dello sposo fanno parte di questo nuovo patto, fanno parte di questo nuovo patto inaugurato nel sangue di Cristo. La relazione rotta per colpa del peccato è stata ristabilita da Cristo e quindi ora siamo di Cristo, apparteniamo a Cristo, siamo sposati a Cristo. Questo brano riguarda quindi tutti noi, nessuno escluso. Tutti noi rischiamo di incamminarci nella via che porta all'adulterio con un'altra donna e con un altro uomo e tutti noi rischiamo di intraprendere un cammino che porta a tradire Dio con ogni sorta di idolo seducente. Perciò siamo tutti chiamati in causa, siamo tutti chiamati ad ascoltare il Padre che parla ai Suoi figli. Quindi la domanda è presteremo attenzione alle Sue parole? Presteremo attenzione alle Sue parole? Custodisci le parole della sapienza. Questo è il nostro primo punto. Questo è quello che leggiamo. Dio ci comanda di custodire e osservare le Sue parole. Ci comanda di applicarle nella nostra vita. Essie sono parole che provengono dal Dio vivente, fedele e perciò anche le Sue parole sono vive ed efficaci come leggiamo in 12. Esse sono fonte di sapienza e intelligenza. Esse danno vita a chi le osserva. Leggiamo nel versetto 2. Non sono parole da custodire come si conserva, si custodisce l'oro in un cavo, ma sono parole che devono essere applicate attivamente, non come l'oro che rimane passivamente nel cavo, ma devono essere parole un tesoro che deve essere applicato nella vita di ogni giorno perché provengono dal Dio che è sapiente e saggio. Sono pane e miele da mangiare, sono acqua e latte da bere giornalmente. Devono essere vicine come dice qui le dita delle nostre mani, devono essere impresse intimamente nel nostro cuore, devono essere vicine come la pupilla e custodite come la pupilla del nostro occhio, come leggiamo al versetto 2, prossime come i nostri familiari più stretti. Infatti leggiamo chiama la sapienza tua sorella e chiama l'intelligenza amica tua. Devono guidare tutto, devono guidare i pensieri, devono guidare le azioni, devono guidare le parole e possiamo sì custodire e osservare queste parole della sapienza perché siamo stati conosciuti dalla sapienza incarnata Gesù Cristo. Le nostre orecchie sono state aperte e abbiamo potuto sentire il Padre dire questo è il mio figlio di letto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Il Padre dice di Cristo di Gesù Cristo la sapienza incarnata ascoltatelo ascoltate le sue parole perché provengono da me. Da allora non possiamo più chiudere le nostre orecchie, non possiamo più essere passivi di fronte alla parola di Dio impressa nei nostri cuori per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Saremmo ipocriti e mancanti di integrità di fronte alla parola che ha rigenerato le nostre vite. Non possiamo illudere noi stessi come dice Giacomo, non possiamo illudere noi stessi ascoltandola soltanto ma non mettendola in pratica. Essa è la spada di Dio, è la spada di cui leggiamo in Efesini 5 ed è la spada che ci ha donato per contrastare le tentazioni, contrastare le seduzioni del nemico. Come Cristo utilizzò la parola per contrastare le tentazioni del diavolo anche noi siamo chiamati ad osservarle ad applicarla, ad osservarla costantemente per contrastare le parole seducenti che provengono dalla tentazione adultera e idolatrica. Quindi come ti comporti quando ti trovi di fronte alla tentazione che sussurra al tuo orecchio quella tentazione che sussurra al tuo cuore la tua vita è ripiena è guidata dalle parole sapienti intelligenti di Dio o stai dando sempre più spazio alle parole false e seducenti che cercano nella nostra vita? Roma è una città piena di parole 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 sono parole che possono sedurre sono parole lusinghiere sono parole che possono attirarci e attirare il nostro cuore ma possono anche e lo fanno attirarci verso sentieri mortali qual è la parola che custodisci e osservi più di ogni altra parola? Qual è quella parola che è centrale nella tua vita? è quella di Dio del padre che parla ai suoi figli? è la tua che diventa il tuo idolo? la tua seduzione? è quella di altri? è quella del mondo? qual è la parola che custodisci e osservi più di altre? custodisci le parole della sapienza per evitare la spirale seduttrice Dio ci comanda di osservare di custodire le sue parole parole sapienti e veritiere affinché ci preservino dalla donna altrui dalle strane che usa parole seducenti questo è il ponte che collega il primo il primo punto con il secondo al versetto 6 la seconda porzione del capitolo ci descrive esattamente le circostanze che portano all'adulterio vogliamo vederlo insieme per imparare come evitare di incamminarci in questa spirale seduttrice il giovane è privo di senno e in compagnia di altri sciocchi leggiamo al versetto 7 questo ci ricorda che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi egli decide di lasciare il gruppo e di avventurarsi da solo al crepuscolo sul declinare del giorno quando la notte si faceva nera e oscura egli si cammina quando nessuno può vedere chiaramente nessuno può vedere chiaramente ciò che il giovane sta facendo rimanendo nell'anonimato egli si avventura dove non dovrebbe si avvicina presso l'angolo dove essa abitava sapeva dove andare abitava e si dirige verso la casa di lei al versetto 9 8 gli si presenta davanti questa donna che stava lui stesso cercando è una donna furba irrequieta arrogante lo leggiamo al versetto 10 e 11 viene meno alle sue responsabilità e si apposta in bella vista nelle piazze nelle strade attira il giovane con la sua sensualità e le sue parole strumentalizza la legge di Dio parlando di un di un sacrificio e contorce la parola di Dio e cerca di tranquillizzare il giovane in questo modo seduce i suoi sensi descrivendogli il letto abbellito con le migliori coperte e aromatizzato con i migliori profumi leggiamo questo al versetto 16 e 17 forse a un certo punto percepisce che il giovane ha paura di essere scoperto e allora lo tranquillizza garantendogli che suo marito mancherà per molto tempo il giovane viene sedotto viene trascinato nella trappola che lui stesso ha concupito e ha desiderato le va dietro subito come leggiamo al versetto 22 la donna lo ha ammagliato così tanto con la sua sensualità e con le sue parole avvenenti che non riesce il giovane non riesce a mettere a fuoco non riesce a valutare la situazione con lucidità è solo e non può chiedere consiglio a nessuno è troppo tardi il dado è tratto il letto morbido e profumato mostra in realtà la sua vera sembianza è un macello gelido è una trappola opprimente riconosci di trovarti in questa fase riconosci forse di essere in una di queste fasi nella tua vita forse ti stai isolando dalla comunione con la chiesa forse hai deciso di intraprendere una strada che non avresti dovuto cominciare forse la sensualità dell'idolo e le sue parole ti hanno già in parte ammagliato forse stai cercando di mentire a te stesso contorcendo le parole di dio forse fino ad oggi eri tranquillo perché nessuno aveva gettato luce su quello che stai facendo fermati prima che sia troppo tardi questo che il padre dice ai figli fermati non cominciare nemmeno ricordati che in ultima analisi l'unico responsabile sei tu tu stesso perché ognuno è tentato dalla propria concupiscenza leggiamo in Giacomo è una concupiscenza che attrae una concupiscenza che seduce e poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto come leggiamo nella storia produce la morte infatti questo è il nostro terzo punto la spirale continua fino a giungere alla morte è una spirale seduttrice che porta alla morte certa la meta del sentiero che si intaprende annuendo alla concupiscenza alla seduzione all'idolatria non può essere altro che la morte il Signore ci mette nuovamente in guardia dice figlioli ascoltatemi 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 state attenti alle parole della mia bocca egli ci raccomanda di non lasciarci trascinare nelle vie e nei sentieri che portano alla morte ci ammonisce ricordandoci che prima di noi ci sono state molte vittime molte vittime ferite a morte uccise perché hanno dato ascolto alla concupiscenza adultera pensiamo a coloro che conosciamo di cui abbiamo sentito parlare che hanno commesso adulterio sono considerati morti dai loro familiari dai loro amici la loro relazione con le persone che li circondano è rotta tragicamente difficilmente se non per grazia e misericordia di Dio è sanabile se non dopo tanto tempo sono morti agli occhi delle persone che conoscono in Adamo abbiamo tutti annuito alle avanze del serpente nel giardino era ingannevole ma era bello agli occhi quello che stava presentando quel frutto era ammaliante era seducente abbiamo detto sì alla concupiscenza abbiamo detto sì al peccato abbiamo annuito al peccato e siamo entrati nella sua camera da letto siamo morti nei nostri falli e nelle nostre colpe avevamo bisogno dell'unico in grado di dire no alla concupiscenza dell'unico in grado di dire no alla tentazione avevamo bisogno dell'unico in grado di intramprendere un cammino puro per ridarci la vita Gesù Cristo è stato colui che ha fatto tutto questo e celebriamo Gesù Cristo oggi perché è Gesù Cristo l'unico privo di peccato non ha commesso peccato ma è andato al macello qua sono gli sciocchi che vanno al macello sono coloro che seguono l'adultera ma Cristo che era l'unico puro è andato al macello senza aver commesso peccato egli è stato l'unico saggio tra tutti gli stolti che ha dato la sua vita affinché noi potessimo diventare saggi agli occhi di Dio e avere timore di Lui ora che abbiamo conosciuto la via di Dio la sapienza di Dio in persona siamo chiamati a camminare per essa e non scegliere sentieri alternativi non scegliere sentieri che seducono sentieri che portano solamente sofferenza tragedia peccato e male ora che abbiamo conosciuto la vera sapienza di Dio la vera verità di Dio in Cristo Gesù e ascoltato le sue parole di vita eterna noi siamo chiamati a non vivere più secondo le nostre vecchie nature la nostra vecchia natura leggiamo in Romani 8 così dunque fratelli non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne perché se vivete secondo la carne voi morrete ma se mediante lo spirito fate morire le opere del copo voi vivrete infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio siamo la sposa di Cristo come abbiamo visto siamo sposati a Cristo il popolo di Dio siamo noi colui che ha riscattato e santificato a caro prezzo da adulteri siamo stati chiamati fedeli da traditori siamo chiamati amici da stolti siamo chiamati saggi non lasciamoci quindi avviluppare abbracciare nuovamente dalle catene del peccato non facciamoci avviluppare dalle catene del peccato per evitare che la nostra condizione ultima diventi peggiore della prima come dice Pietro nella sua seconda lettera il Signore ci mette allerta ci mette in guardia stiamo attenti a non essere come il cane che torna al suo proprio vomito o stiamo attenti a non essere come la scrofa che torna a rotolarsi nel fango dopo essere stata lavata e purificata se quindi riconosci di aver rotto questo patto creazionale con Dio stabilito da Dio e di averlo tradito peccando contro di Lui oggi è il giorno proficuo oggi è il giorno della salvezza per credere nel sacrificio del Signore Gesù ed essere purificato per mezzo del suo sangue quel sangue che è segno del nuovo patto inaugurato da Lui stesso se invece appartieni già a Dio sei una nuova creatura ma ti rendi conto di essere stato sedotto dalla tua concupiscenza e di esserti incamminato in questo sentiero di seduzione allora ti prego di fermarti prima che sia troppo tardi ascolta la parola sapiente del Padre questa parola che è dettata ai Suoi figli e pentiti dei tuoi peccati ed Egli sarà fedele e giusto da perdonarti i peccati e purificarti da ogni iniquità e se per grazia di Dio oggi non ti sei incamminato in questo sentiero pericoloso tragico sofferente malvagio allora gloria al nome di Dio ricordati dell'attenzione però che vivono che viviamo noi come giustificati peccatori giustificati da Cristo come abbiamo visto nessuno è immune perché chi pensa di stare in piedi veda di non cadere quindi sii sobrio veglia il nostro avversario va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare dice Pietro quali parole ascolterai e in che modo risponderai alle parole del padre che scrive ai suoi figli preghiamo insieme signore se pensiamo al al tuo piano di salvezza nei nostri confronti non possiamo fare altro che inginocchiarci davanti alla tua misericordia e alla tua grazia signore se riflettiamo su quello che abbiamo fatto se riflettiamo sull'adulterio che abbiamo commesso nei tuoi confronti non possiamo fare altro che lodare il tuo nome e ringraziarti per quello che hai fatto in Gesù Cristo abbiamo rotto il patto che tu avevi stabilito signore questo patto perfetto fatto da te signore noi l'abbiamo rotto andando dietro alla concupiscenza che ha generato peccato che ha generato morte signore grazie grazie perché nonostante il nostro peccato tu hai voluto darci una chiave di salvezza Gesù Cristo il nostro sposo e grazie perché Gesù Cristo è morto per i nostri peccati è morto per coloro che hanno creduto in lui coloro che appartengono la chiesa la sposa signore perdonaci perdonaci per essere andati dietro a idoli a idoli del nostro cuore agli idoli della nostra società agli idoli che si educono agli idoli che che avvinghiano che avviluppano che legano in catene soffocanti ti ringraziamo signore perché lo spirito santo che è in noi è la tua parola ci parlano ci correggono ci istruiscono e ci mostrano il peccato che è in noi grazie perché sei fedele e giusto grazie perché possiamo venire davanti a te con un cuore appesantito con un cuore rattristato con un cuore pentito e chiedere a te perdono signore per ciò che abbiamo fatto signore ti prego che tu possa toccare i cuori di coloro che ancora vivono in uno stato di adulterio nei tuoi confronti che ancora non si rendono conto di aver rotto questo patto e ti prego signore per le persone che stanno vivendo una stagione della loro vita in questa spirale di seduzione che tu signore possa illuminare il loro cuore affinché possano vedere dove stanno andando a sbattere signore aiutaci proteggici nelle tue vie dacci sapienza signore la tua sapienza sei tu signore che dici chi manca di sapienza la chieda perché tu dai con generosità prego signore di aiutarci che nessuno possa essere orgoglioso pensare di essere immune ma che possiamo stare attenti essere avere un concetto sobrio di noi stessi non troppo alto non troppo alto signore signore in una città come Roma dove ci sono tanti tradimenti dove ci sono tante persone che sminuiscono il matrimonio prego signore che la tua chiesa possa essere una testimonianza di luce che possiamo mantenere matrimoni fedeli in primis con te signore il patto che è stato stabilito da te rinnovato in Cristo Gesù e con le nostre mogli con i nostri mariti con i nostri amici con la chiesa che possiamo essere fedeli in primis nei tuoi confronti e nei confronti delle persone che ci circondano possiamo essere una testimonianza veritiera di ciò che hai fatto nella nostra vita e che possiamo applicare la tua parola signore che possa non essere lì per inchiuse in un cavo bella da vedere ma utile a poca cosa non vogliamo essere così signore vogliamo che mostrare che la tua parola è utile che la tua parola sana la tua parola guida la tua parola riempie la tua parola corregge la tua parola è santa e veritiera prego aiutaci in questo dacci sapienza quando non ce l'abbiamo quando ci manca e guidaci nelle tue vie guidaci ad essere fedeli a te signore te lo chiediamo nel nome di Gesù grazie per aver ascoltato questo sermone preghiamo che Dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in Italia per altri sermoni e risorse visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it grazie 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 grazie